ciao amici di gorizia tv eccoci qua blackout in via notte santo alle 3 e 20 di mattina io stavo lavorando tutto un tratto blackout spesso tutte le luci vado fuori vado a vedere un attimo come la situazione sentite un po c'è il blackout caro amico alle 3 20 di notte blackout la c'è il diaschidon con le luci guardate un po ci sono tutte le luci accese chissà come mai le luci accese si sono accese tutte le luci al diaschidon però credo che non tutte le luci sono chiuse forse via monte santo probabile adesso andrò a vedere sotto ha smesso il di più alla luce accesa qua invece abbiamo tutto buio adesso io vado a vedere giù però c'è la luna guardate un po c'è la luna accesa il diaschidon tutte le luci accese adesso vado a vedere in centro puio come mai che di là la luce è strana però è strana è strana è strana è strana da dove venite giù tu è dal centro venivo io e quando è da dove c'è senza luce è dall'inizio di monte santo sicuro se io sto scendendo giù tutto qua via palladio poi è tornata via palladio poi io sto prendendo monte santo ho fatto il gioco più lungo perché ho bevuto compagno di bie ed è necessario è un parafasco oh no e qua c'è la luce vedi classico vedi ho fatto il servizio oppla in un attimo guardate che roba vedi ciao ero lì che è per fortuna che ho finito di lavorare via black out oppla neanche c'è il caldo vedi oddio ecco la guarda di là aspetta aspetta che mettiamo è arrivata la luce finalmente aspetta 3 e mezza c'è l'orologio tu? ah sì 3 e mezza 3 e 22 3 e 21 posso filmarti un secondo? sì ma mi sono allora eccolo qua 3 e 22 senza luce e adesso è tornata hai visto? al volo guardate che roba 10 minuti di buio 10 minuti di buio black out è tornata la luce finalmente eccolo qua il dia schidon con la luce e chiudiamo qua il servizio